Al Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, vieni Giuliano. Cominciamo dalle cose difficili. Dov'è finito il lavoro? Molto in giro per il mondo, si è spostato, gira, cambia molto di faccia, cambia molto di qualità, bisogna aver voglia di andare a cercare, io qui prima ho fatto un bel giro in mezzo agli stand e ho trovato... Tu hai la seconda volta che torni alla Maker Faire, mi ricordo... La terza, la terza, a noto, non capita spesso che un Ministro duri tre Maker Faire. Quindi, bravi Maker Faire, ma ho avuto l'avventura di avere l'opportunità da Ministro di passare a tutte e tre le edizioni. No, ho trovato, questo sì, veramente una cosa molto bella, perché molti di questi innovatori che pensano che fanno cose anche divertenti, poi mi dicono, guarda, qui c'è un ragazzo che ha lavorato con me, abbiamo pensato una cosa, ha fatto con me un tirocinio, è stato un po' lì e adesso l'ho assunto e lavora con me. Quindi trovo in giro molte situazioni dove, anche ai progetti, ai programmi che noi facciamo, che a volte facciamo fatica anche a capire se siano al passo con questo cambiamento, perché abbiamo una vocazione a reiterare, a ripetere. A essere un po' complicati a volte. Sì, ma essere complicati, ma ancora peggio dell'essere complicati, è rifare quello che è già stato fatto. Tu devi fare un intervento per l'occupazione, cosa hanno fatto prima di te? Hanno fatto un piano per qui, per lì, per su e per giù, poco più, poco meno, tu ripeti quello, magari ci metti 10 euro in più, e dici avete visto come sono bravo, ho fatto quello che hanno fatto quegli altri con 10 euro in più. Errore. Oggi se non fai delle altre cose, i 10 euro in più servono un fico. bisogna trovare uno strumento capace di dialogare con queste condizioni. E questo è lo sforzo che stiamo facendo. Ce l'avete? Lo costruiamo, come fate voi. Perché l'unica maniera che abbiamo noi è continuare a cambiare. Tutti i giorni provare, fare una cosa nuova, verificarla, se funziona bene, se non funziona, e se funziona bene bisogna migliorarla, se non funziona via, se ne fa un'altra. È una logica molto diversa. Noi veniamo da una storia dove la politica non sbagliava. Quindi si faceva una cosa, se funzionava bene, tante volte non ci si guardava, perché l'importante era aver detto di farla. Poi, quando invece ci guardavi, se per caso non funzionava, il tema era, erano gli altri che non avevano capito. Allora si passava due anni a spiegare che tu avevi pensato la cosa giusta, ma era il mondo che non capiva. Io ho un'idea del tutto opposta. Io penso che il mondo di Roma capisca, e io spesso a volte sbaglio, quindi accetto l'idea che il mondo mi dica guarda Poletti, non l'hai beccata, fane un'altra e pronti a partire. Senti, l'innovazione digitale, la trasformazione digitale distrugge posti di lavoro e ne crea. Qual è il saldo, secondo te? Positivo o negativo? La storia dice che è positivo. Tutti i fenomeni, le grandi rivoluzioni industriali, nel tempo hanno prodotto più lavoro. Nel tempo, ma se uno capita nel tempo sbagliato, in quello in cui il posto, l'innovazione lo distrugge in quel momento e lo produce fra vent'anni, se tu sei in quel pezzo lì, ti viene un nervoso fuori di misura. Come ti viene? Dimmelo bene? Ti viene un nervoso fuori di misura. Perché? Perché dici, ma perché sono qui adesso e non fra vent'anni, quando ci saranno delle cose meravigliose? E che facciamo adesso? Ma te ti tocca quella cosa lì. Quindi bisogna essere bravi a gestire la transizione. Io rappresento sempre le imprese di ieri e di oggi in due modi diversi. Ieri avevamo l'impresa Pedone, camminava alla sua velocità, ad un certo punto aveva un prodotto, lo vendeva per cinque anni, dieci anni, stava lì sul mercato. Quando aveva bisogno di fermarsi da Pedone, si piazzava lì, si guardava in giro, osservava il mondo. Adesso le imprese sono diventate bicicletta, ciclisti. L'equilibrio serve sempre, serviva il Pedone, serve il ciclista. L'unica differenza è che oggi l'equilibrio è dinamico, è in movimento. Se non sei Maspes e Gaiardoni, che voi non conoscete perché siete molto giovani, ma erano due meravigliosi ciclisti che a Milano, al Vigorelli, facevano del surplus, stavano sulla bicicletta un'ora e un quarto perché per lanciare lo sprint chi partiva prima perdeva e quindi stavano fermi. Lì, un'ora e un quarto, erano gli unici due ciclisti che erano capaci di stare in equilibrio, fermi. La norma non è così, la norma è dinamica per cui bisogna avere un'impresa dinamica che trova sempre, e ogni giorno un nuovo equilibrio. Io credo che questo sia il tema che abbiamo di fronte con un problema gigantesco che i cambiamenti della tecnologia, dell'innovazione sono clamorosamente più veloci dei cambiamenti della società e delle regole. Quindi, se noi vogliamo regolare l'innovazione con i ritmi e le capacità e le tecniche e gli strumenti che abbiamo usato ieri nella società da pedoni, se tu vuoi gestire una società di ciclisti, tu rimani indietro un sacco di chilometri. Ti chiedo una risposta telegrafica, se ci riesci. Sei la terza Maker Faire, quindi sei ministro da un po'. Hai fatto abbastanza per l'innovazione e per il lavoro? Direi di no, perché anche noi abbiamo lo stesso tipo di problema che ha l'impresa e la bicicletta. Dobbiamo innovarci sistematicamente. le istituzioni non hanno dentro il virus, non hanno dentro l'idea di cambiare sistematicamente, pensano di fare una cosa che starà lì stabilmente a regolare la vita della comunità, perché hanno un'idea sbagliata. Avremmo detto telegrafica, però Giuliano, non voglio mancare di rispetto all'istituzione, però va bene. No, è così, noi non abbiamo questo virus, però un po' alla volta lo becchiamo. Però lo beccate, se venite alla Maker questi tre giorni, domani credo ci sarà anche il Ministro Martina. Grazie tanto Giuliano. Grazie a tutti, complimenti e buon lavoro. Buon lavoro.